The New Stories. La tua informazione libera. Il marito della dottoressa ha avviato un'azione legale. La dottoressa Kanok Pornthankswan, un medico rispettato affiliato alla NYU Langone di New York City, è deceduta dopo aver cenato al Raglan Road Irish Pub, situato nel parco a tema Disney Springs. Secondo la causa intentata da Jeffrey Piccolo, marito della donna, nonostante le rassicurazioni del cameriere sulla compatibilità dei piatti con le esigenze di salute della moglie. La serata è diventata una tragedia. Le pietanze scelte, tra cui broccoli, frittelle di mais e anelli di cipolla, avrebbero dovuto essere servite senza allergeni, ma tale precauzione sembra essere stata trascurata. Il personale del ristorante ha garantito più volte che il cibo fosse sicuro, ma la tragica fine della serata ha dimostrato il contrario. Dopo la cena, mentre si trovava in una galleria commerciale di Disney Springs, la dottoressa Tang Suan ha iniziato a manifestare segni di una grave reazione allergica, culminata con il suo collasso nonostante l'autosomministrazione di un EpiPen. La causa di morte è stata confermata come anafilassi dovuta ad elevati livelli di latticini e noci nel suo organismo. La denuncia solleva questioni critiche sulla responsabilità e sulle procedure di sicurezza alimentare di Walt Disney Parks and Resorts Inc., accusata di non aver adeguatamente formato il proprio personale sull'importanza della gestione delle allergie alimentari. La famiglia della dottoressa Tang Suan chiede un risarcimento di 50.000 dollari, ma al di là degli aspetti legali e finanziari, il desiderio più profondo è prevenire che simili tragedie si ripetano in futuro.